Con il sermone intitolato La Bibbia e Dio Madre, prendiamoci un po' di tempo per studiare insieme la parola di Dio. Oggigiorno, ci sono così tante chiese nel mondo, ma perché non credono in Dio Madre? Anche se Dio Madre è testimoniata ed esiste chiaramente nella Bibbia, non la conoscono né la capiscono. Oggi, le chiese nel mondo non capiscono correttamente la verità del perché Cristo An-Sang Hong è venuto su questa terra, come Gesù nella seconda venuta, con un nuovo nome, ne hanno conoscenza, di Dio Madre. Anche se Dio aveva già testimoniato l'esistenza sia di Dio Padre che di Dio Madre, prima che Adamo fosse formato, dalla polvere della terra, e lo rendesse evidente nella Genesi, il mondo di oggi, non mostra alcun interesse per questo. La loro mancanza di interesse per Dio non significa che non sono interessati alla salvezza o al regno dei Cieli? Ecco perché la Bibbia dice, guardatevi dai falsi profeti. È perché le loro anime potrebbero finire nella distruzione, a causa di quei falsi profeti. Pertanto, cosa ci dice di fare Dio con le parole di Dio, per ottenere la salvezza completa? I figli celesti dovrebbero seguire gli insegnamenti della parola di Dio così com'è, né aggiungere né togliere da essa. Quando ci guardiamo intorno, molte chiese chiamano Dio, Padre. Pregano sempre Dio, dicendo, Padre, per favore, benedicici, o Padre, per favore perdona i nostri peccati. Il titolo Padre implica senza dubbio che esiste una relazione di sangue. Tuttavia, le chiese di oggi non stanno osservando la Pasqua, la verità di vita, attraverso la quale Dio si è collegato all'umanità, in una relazione di sangue. Cosa significa non osservare la Pasqua, riguardo alla nostra relazione di sangue con Dio? Questo significa che, la relazione è interrotta. In Numeri capitolo 9, Dio disse, se chi si attiene da celebrare la Pasqua nel tempo stabilito, che deve succedere loro, sarà sterminato, dal popolo di Dio. Questo significa che, diventano completamente estranei a Dio. A maggior ragione, se non hanno alcuna relazione con Dio Madre, nonostante la sua esistenza, può davvero essere concessa loro la salvezza. Non è inevitabile, che solo la distruzione eterna, la punizione eterna, e l'eterno tormento dell'inferno, saranno dati loro. Pertanto, dobbiamo avere una fede completa, per testimoniare con orgoglio, e rivelare la Madre Celeste registrata nella Bibbia, a tutte le persone del mondo. Fratelli e sorelle, come ci chiamiamo? Quando veniamo in chiesa nel giorno di sabato, non ci chiamiamo l'un l'altro fratello e sorella? Esatto, siamo fratelli e sorelle. Non solo onoriamo Dio Padre, ma chi altra onoriamo? Onoriamo anche a Dio Madre. Non è per questo che siamo l'eterna famiglia celeste? Oggi, confermiamo attraverso la Bibbia, questa verità che Dio ci ha rivelato. Andiamo al libro di Matteo, capitolo 13. Matteo, capitolo 13, versetto 10. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero, perché parli loro in parabole? Ed egli, rispondendo, disse loro, perché a voi è dato, di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Non significa che ci sono persone a cui è permesso conoscere il mistero del regno di Dio e quelle a cui non è permesso. Continuiamo con il versetto 12. Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha, gli sarà tolto, anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo. La stessa Bibbia, le stesse parole, e le stesse frasi, sono stampate esattamente nello stesso posto. Tuttavia perché vedendo, vedono, non vedano, e udendo non odano, né comprendano. Questo è davvero sorprendente. La Bibbia che stiamo leggendo, è la stessa Bibbia che viene letta universalmente, da persone di tutto il mondo. Eppure, è davvero sorprendente, che non possano vedere queste cose, con i loro occhi. Versetto 14. Così si adempie in loro, la profezia di Isaia, che dice, Voi udirete, ma non intenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo, è divenuto insensibile, essi sono diventati duri d'orecchi, e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non comprendano col cuore, e non si convertano, e io li guarisca. Ma, beati i vostri occhi, perché? Perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. Versetto 17. Perché in verità vi dico che, molti profeti e giusti desiderarono vedere, le cose che voi vedete, e non le videro, e udire le cose che voi udite, e non le udirono. Una parte di questa verità, riguarda Dio Madre. È registrato in Romani capitolo 5, che nel processo della creazione, Adamo rappresenta Gesù. Allora, che dire della Eva spirituale? Eva, la moglie di Adamo, appare alla fine della creazione di sei giorni. In altre parole, contiene il significato, che alla fine dell'opera di redenzione di 6.000 anni, l'esistenza della madre di tutti i viventi, deve essere fatta conoscere, a tutta l'umanità. Se non riusciamo a capire e comprendere l'esistenza della madre, allora la nostra fede e i nostri sforzi, sarebbero vani. Poiché ora viviamo nell'epoca dello Spirito Santo, dobbiamo conoscere Dio Madre. Non chiamiamo semplicemente Dio Padre, senza alcuna ragione. Indubbiamente, una relazione come Padre spirituale e figli è stabilita tra Dio e noi. Duemila anni fa, Gesù Cristo, che è venuto nella carne, ci ha rivelato chiaramente questa verità. Andiamo al libro di Matteo capitolo 6. Vediamo il versetto 8. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Chi disse Gesù che è Dio, ha detto che Dio è nostro Padre. Gesù disse, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque, pregate in questa maniera, chi nei cieli? Padre nostro che sei nei cieli. Essendo stati fatti carne su questa terra e rivestiti del velo del peccato, ora viviamo, avendo dimenticato tutte le nostre memorie spirituali. Le persone vivevano in uno stato di non sapere che Dio è il loro Padre. A quel tempo, Gesù è venuto su questa terra duemila anni fa e ha insegnato loro, Dio è davvero vostro Padre. E chi ha detto che dobbiamo invocare in cielo quando preghiamo? Gesù ripetutamente ci ha fatto conoscere Dio come Padre. Diamo un'occhiata al libro di Ebrei, capitolo 12, versetto 9. Ebrei, capitolo 12, versetto 9. Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora. A chi dobbiamo sottometterci? Al Padre degli Spiriti, per vivere. Il Padre degli Spiriti significa Dio. Possiamo capire questo come una lezione per noi di vivere rettamente secondo i Suoi insegnamenti, con un cuore ancora più obbediente verso Dio. Qui è menzionato che, così come c'è un Padre secondo la carne, chi è anche lì per lo Spirito, ci ha fatto conoscere, il Padre degli Spiriti. Il termine Padre indica chiaramente che ci deve essere qualcuno che può chiamarlo come tale. Non è vero. Il titolo Padre è un termine che solo i figli possono usare. Passiamo al libro di Seconda Corinzi, capitolo 6. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò, e sarò. Cosa sarà Dio per noi? Un Padre per voi e voi sarete per me, figli e figlie. Chi dice queste parole? Dice il Signore Onnipotente. Dio ha usato chiaramente i titoli di famiglia in questo modo. Io sarò un Padre per voi e voi sarete per me, figli e figlie. Allora, chi manca qui, tra i membri della famiglia? Solo perché lei è omessa qui, non significa che la madre non esiste, piuttosto, Dio ha gentilmente fornito insegnamenti sulla madre altrove. Galati capitolo 4. Vediamo Galati capitolo 4 versetto 26. Invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è, chi è lei? La madre di noi tutti. Dio ci fa sapere chiaramente, attraverso le registrazioni scritte nella Bibbia, che abbiamo non solo nostro padre, ma anche nostra madre. Versetto 27. Infatti sta scritto, rallegrati, o sterile che non partorisci. Prorompi e grida, tu che non senti doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo, chi siamo? Siamo figli della promessa. Vediamo chi può diventare i figli della promessa, attraverso il versetto 29. Ma come allora colui che era generato secondo la carne, perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma di chi siamo figli? Della libera. Allora, chi è la donna libera? Questo è collegato al versetto 26. Invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di noi tutti. Pertanto, siamo figli della donna libera, cioè figli della madre. Come dovrebbe naturalmente un figlio chiamare la donna che lo ha dato alla luce? Madre. Ecco perché Dio ci ha concesso i preziosi titoli di figli e figlie. La Bibbia testimonia che quando siamo battezzati e rinasciamo spiritualmente in Dio, la carne e il sangue di Dio, esistono completamente dentro di noi. È scritto in questo modo non solo nella Bibbia coreana, ma anche in tutte le Bibbie. Invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di noi tutti. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Qui, la Bibbia non sta parlando delle nostre madri fisiche in questo momento. Sta spiegando la nostra madre spirituale, la madre celeste, non è vero? Inoltre, non solo qui, ma in tutta la Bibbia, l'esistenza di Dio Madre è costantemente registrata immancabilmente. Apriamo al libro di Genesi capitolo 1. Genesi capitolo 1 versetto 26. Poi Dio disse, Facciamo l'uomo, a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Anche se le persone vedono spesso questo versetto, non ci prestano attenzione. Tuttavia, contiene qualcosa di molto importante. Alcune persone insistono, Dio Padre solo ha creato l'umanità, ma se guardiamo al versetto 26 di nuovo, dice, Poi Dio disse, Facciamo l'uomo, a nostra immagine. Si esprime al plurale. Anche la Bibbia inglese la esprime, al plurale come, Our. Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Dio, che ha creato l'umanità, ha usato la forma plurale, nel testo originale della Bibbia e ha detto, Facciamo l'uomo a nostra immagine, indicando che non è stato Dio Padre solo, a creare l'umanità. Questo è il modo in cui è registrato nelle Bibbie, che sono state tradotte, in tutte le lingue del mondo. Non c'è nessuna Bibbia che testimoni assolutamente. Un solo Dio ha creato l'umanità. Vediamo di nuovo il versetto 26. Poi Dio disse, Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo, a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò, chi creò? L'umanità è stata creata, ad immagine di Dio, l'una nell'immagine maschile, e l'altra nell'immagine femminile. Allora, chi deve essere anche Dio? In quale immagine deve esistere Dio? Ci deve essere non solo Dio nell'immagine di un maschio, ma anche Dio nell'immagine di una femmina, non è vero? Per dirla semplicemente, quando Dio disse, Facciamo l'uomo, a nostra immagine, questo significa che, Dio voleva duplicare la loro immagine. Per molto tempo, l'umanità si è riferita al Dio con mascolinità, come Dio padre. Poi, naturalmente, il Dio con la femminilità viene chiamato Dio madre. Ecco perché sta scritto in Galati capitolo 4, versetto 26. Invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è, chi è lei? La madre di noi tutti. Amen. Dio ha detto che, quando coloro che non comprendono appieno che, la parola di Dio ai suoi compagni dei versetti nella Bibbia, vedranno questo versetto, si adempirà in loro la profezia, perché vedendo non vedano, e udendo non odano, né comprendano. Non è logica naturale che se Dio padre esiste, esiste anche Dio madre? Senza un padre e una madre, come possono esserci figli e figlie? I principi di questa terra sono una figura diretta, dei principi del cielo. Sono una figura e un'ombra, delle cose celesti. Allora, il sistema familiare terreno è fatto, come una figura e un'ombra, del sistema familiare celeste. Così come c'è un padre sulla terra, c'è un padre in spirito. Ci sono figli e figlie, sia spiritualmente che fisicamente. Così come c'è una madre che dà la vita e genera figli su questa terra, ci deve essere anche una madre celeste che concede la vita eterna in cielo. Questi sono gli insegnamenti di Dio che ha stabilito dalla creazione del mondo. La Chiesa di Dio sta trasmettendo questi insegnamenti, perché questo è ciò che ha ricevuto da Dio. Allora, è sbagliato trasmettere ciò che è nella Bibbia? Piuttosto, se qualcuno ostacola e calunnia la predicazione di ciò che è scritto nella Bibbia, cosa succederebbe a quella persona? Apocalisse capitolo 22 versetto 18 dice che Dio aggiungerà a quella persona le piaghe descritte nella Bibbia. Poiché la Bibbia insegna che affermare falsamente non esiste per ciò che esiste, o affermare falsamente esso esiste per ciò che non esiste, è un atto che non conduce al regno dei cieli, come possiamo mai negare gli insegnamenti di Dio. Non importa quanto difficile possa essere. In questo modo, la Bibbia rivela, non solo Dio padre, ma anche Dio madre. Solo nell'Antico Testamento, nel testo originale ebraico, la parola Elohim, è usata più di 2500 volte per esprimere Dio nella forma plurale. Naturalmente, ci sono momenti in cui Dio si esprime al singolare. Quando Dio si esprime al singolare, è scritto come El oppure Eloach. In Genesi capitolo 1 versetto 1, è scritto, nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Anche in questa scena, la parola Dio, è registrata come Elohim, è nella forma plurale. Nel principio, i Dei crearono i cieli e la terra. Quando Dio padre e Dio madre hanno creato l'umanità, hanno detto, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Poi, hanno creato, il maschio e la femmina. Fratelli e sorelle, se copiate le immagini di un uomo e di una donna da un dipinto originale, non appare la stessa immagine di un uomo e una donna sulla carta stampata. La copia è diversa dall'originale? Noi, esseri umani, possiamo essere considerati come copie di Dio. Spiritualmente, c'è l'immagine maschile di Dio e l'immagine femminile di Dio. Chiamano l'immagine maschile di Dio, Dio padre, quindi perché ignorano l'esistenza di Dio madre, che ha l'immagine femminile, insistendo non esiste. Questo è sbagliato. Pertanto, quando riveriamo Dio, dobbiamo riverire Dio padre e dobbiamo anche riverire Dio madre, in modo che tutti noi possiamo diventare quelli che sono guidati e insegnati da Dio padre e Dio madre per entrare nell'eterno regno dei cieli. Allora, non solo esaminiamo questo nel libro di Genesi, ma diamo anche un'occhiata nel libro d'Apocalisse. Diamo un'occhiata ad Apocalisse capitolo 22, versetto 17. Apocalisse capitolo 22, versetto 17. E lo spirito e la sposa dicono, Secondo la Trinità, non abbiamo imparato che il padre, il figlio e lo spirito santo sono lo stesso Dio. Lo spirito rappresenta Dio padre, che ha un'immagine maschile. Allora, chi diventa per noi la sposa del padre? Dio padre e Dio madre dicono, vieni. E chi ode dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Non c'è nessuno tranne Dio, che può dare l'acqua della vita. Tuttavia, cosa dice Dio qui? Chi ha sete, venga a me. Questo significa che, dobbiamo andare alla chiesa, dove sia Dio padre che Dio madre ci chiamano. Oggigiorno, ci sono numerose chiese, come la sabbia del mare, eppure riconoscono a Dio padre solo, mentre negano l'esistenza di Dio madre. In altre parole, questo significa che, non credono nella Bibbia. Cosa ci dice la Bibbia? C'è Dio padre, e anche Dio madre. Inoltre, sottolinea oltre 2500 volte, che Dio è espresso, in una forma plurale. Tuttavia, poiché finora non è stato insegnato alle persone in questo modo, non ci credono. Allora, perché usano il termine padre? Tra i membri, si chiamano anche fratelli e sorelle. Eppure, in mezzo a tutto questo, solo la madre è vistosamente assente. Affinché si formi un nucleo familiare, chi deve esserci? Deve esistere un padre, e devono esistere anche i figli. Tuttavia, senza una madre che dà la vita ai figli, non si può formare una famiglia completa. Lo stesso vale spiritualmente. Pertanto, quando tutte le persone si ravvedono, e tornano a Sion dove dimorano il padre e la madre che danno l'acqua della vita, riceveranno l'eterno regno dei cieli, la salvezza, il perdono dei peccati, e la grazia e la benedizione di Dio. Dobbiamo credere fermamente in questo, e indipendentemente da qualsiasi situazione o circostanza in cui ci troviamo, non dobbiamo perdere di vista il regno dei cieli, ma seguire il nostro padre e nostra madre, per diventare membri della famiglia celeste, che possono entrare nell'eterno regno dei cieli. Come ben sapete, la Chiesa di Dio è una Chiesa che segue fedelmente tutti gli insegnamenti della Bibbia. Anche se ci sono molte Chiese nel mondo, seguono molti insegnamenti, che differiscono da quelli della Bibbia. Non seguono il cammino corretto. A partire dal giorno di sabato, si stanno già sviando. Non osservano la Pasqua, che Gesù desiderava ardentemente osservare. Senza la Pasqua, la relazione di sangue con Dio è interrotta. Solo con la Pasqua, possiamo continuare la nostra relazione con Dio, attraverso il sangue del patto. Proprio come la famiglia fisica è collegata, attraverso il sangue, confermiamo che, anche la famiglia spirituale, è assolutamente collegata, attraverso il sangue. Vediamo il libro di Matteo capitolo 26. Matteo capitolo 26, versetto 17. Ora il primo giorno degli azimi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero, dove vuoi che ti apparecchiamo, per mangiare la Pasqua. Ed egli rispose, andate in città da un tale, e ditegli, il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua in casa tua, con i miei discepoli. Allora i discepoli fecero, come Gesù aveva loro ordinato, e apparecchiarono la Pasqua. Vediamo la scena di celebrare la Pasqua nel versetto 26. Versetto 26. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli e disse, prendete, mangiate, questo, è il mio corpo. Dandoci il pane della Pasqua, Dio ci ha fatto conoscere il suo significato, come il suo corpo, cioè la sua carne. Versetto 27. Poi prese il calice, che conteneva il vino in esso, e rese grazie, e lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è, di chi è questo sangue? Il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Mentre ci concedeva il pane e il vino della Pasqua nel giorno della Pasqua, ci disse che il pane e il vino rappresentano, la sua carne e il suo sangue. Non è ovvio, che coloro che ereditano la carne e il sangue dei genitori, sono i loro figli. In altre parole, non c'è alcuna promessa, di ereditare la carne e il sangue di Dio, ovunque non si celebri la Pasqua. Tuttavia, in una chiesa dove si osserva la verità della Pasqua, possiamo prendere parte alla carne e al sangue di Cristo, e garantire la posizione, per formare una relazione con Dio, come Suoi figli. Riguardo a questo, Dio si riferì alla Pasqua, come al nuovo patto, e stabilì una promessa attraverso di essa. Quindi, esaminiamo il versetto sul sangue di Cristo in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 16. Capitolo 10 versetto 16. Il calice della benedizione, che noi benediciamo, non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Qui non, non è una negazione, ma significa che è davvero una partecipazione, nel sangue di Cristo. Il pane che noi rompiamo, non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Così, il pane della Pasqua e il vino della Pasqua, si riferiscono alla cerimonia, che ci permette di partecipare, nella carne di Cristo e nel sangue di Cristo. L'Apostolo Paolo spiegò questo, ai membri di Corinto in questo modo. Versetto 17. Poiché vi è un solo pane e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo, dell'unico pane. Questo è il modo in cui insegnò loro. Allora, che dire di affermare, di essere spiritualmente legati a Dio attraverso il sangue, senza osservare la Pasqua? Questa è una bugia. Solo coloro che osservano la Pasqua, possono chiamare Dio Padre e Madre. Anche se coloro che non osservano la Pasqua, pregano Dio chiamando Dio Padre diecimila volte, le loro preghiere saranno vane. La Bibbia testimonia questo. Allora, avete osservato la Pasqua? Osservare la Pasqua significa che abbiamo ricevuto l'autorità di diventare figli di Dio. Dove vanno tale persone? Vanno all'eterna Patria Celeste. Pertanto, contempliamo il fatto che Dio ha concesso la promessa del perdono dei peccati ai Suoi figli che osservano la Pasqua e li ha chiamato figli celesti, figli miei e mio popolo. Dio Elohim ha concesso la grazia del perdono dei peccati a noi, ai peccatori che hanno commesso peccati in cielo e sono stati espulsi su questa terra, ci ha riconosciuto come i loro figli celesti e ci ha permesso la via gloriosa per tornare alla nostra eterna Patria Celeste. Dobbiamo rendere grazie, gloria e lode eterne a Dio Padre e a Dio Madre e vantarci di Dio fino alla contentezza del nostro cuore. Perché non credete in Dio Madre, che è testimoniata nella Bibbia? I figli celesti non dovrebbero svegliare fermamente coloro che stanno camminando sulla via sbagliata, consegnando il messaggio con più fiducia e coraggio. In questo modo, dobbiamo correggere ciò che è sbagliato, risolvere i malintesi e rivelare la verità, giusto? Sperando che tutti diventiamo i ministri del nuovo patto e i figli e le figlie di Dio, che possono predicare correttamente la luce della verità di Dio, vorrei concludere il sermone di oggi. Grazie mille.